Ciao ragazzi, allora c'è un gruppo di sore, notte in convento, arriva a primavera, esce dal convento perché deve andare giù, c'hanno in orto, un poco distante dal convento, che sai, deve cominciare a dare una custodita dell'inverno, tutta una ripulita, allora poi parte la madre superiore, tutte le sorelle di dietro, poi in fila indiana vanno giù l'orto a piedi, no Pia, ma ne arrivano giù l'orto, se mettene tutte a culpuzzo e cominciano a pulire tutto l'orto per terra, capito, sgrascia Pia, strappa, le foie secche, le rame, tutto quanto, poi a certo momento sai le sorelle di orari presto, Pia, guarda la madre superiore, guarda allora Pia, ragazze, sorelle, bisogna tornare a tutto il convento perché bisogna mangiare, però prima bisogna dire preghiere, allora Pia parte alla madre superiore, tutte le sorelle di dietro in fila indiana, tutte dentro al convento, tutte ad asse napoletina, pregherina delle celette di loro e poi Pia ne vanno tutte in terra effettorio a mangiare, allora se mette la madre superiore al centro, capito, che vede tutte le sorelle, capito, che le controlla tutte, a un certo momento con la vice madre superiore fa, ma sorella ma non te ne pare che ne manca una qui, allora quella guarda, ma come non te pare, ma guarda ma non è che manca, ma sì ma io non vedo a suor Maria, dove è suor Maria? Boh, non so, non erano alcuni altri, sì, allora tutte, dove è suor Maria, dove è suor Maria, dove è suor Maria, dove è suor Maria, ci siamo persi a suor Maria, ma non sarà suor Maria, Pia tutte a tornare dentro le camerette, tutte a pregare per suor Maria, ma dove abbiamo finito a mangiare, tutte a pregare per suor Maria, Pia al parte, tutte quattro, di fedele, tutte ognuna nelle camerette di loro, tutte a pregare per suor Maria, che dove ha tornato a suor Maria, allora verso le quattro della mattina, si sente abbussante il porto del convento, Pia la madre superiore, parte giù per il curidoio del convento, arriva giù, andrò tutte le sorelle di dietro, in fila indiana, apre il porto, c'era suor Maria, tutta sgaruffata, tutta scurtigata, tutta sbramata, il cordone, la veste, tutta sbramata, suor Maria, ma cos'è successo, madre mia, sorelle mie, ma con tutta combinata così, ci ha fatto stare in pensiero, tutta la notte, non ci abbiamo cenato, abbiamo pregato, abbiamo tutto combinato così, madre mia, sorelle mie, non sapete cosa a me è successo, cosa gli è successo, eravamo tutti l'interlorto a custodì, a pulì, stavamo tutti a culo puzzo, mi consenta, ha detto a un certo momento, io mi so tirata su che ero talmente presa e voi non c'eravate più nessuno, ha detto, madre mia, sorelle mie, e allora suor Maria, e niente, che è arrivato a un certo momento, all'improvviso, un macchinone nero con tutti i vetri neri, madre mia, sorelle mie, e ho capito, allora suor Maria, e niente, e calati giù, quattro giovanotti, tutti vestiti di nero, madre mia, sorelle mie, suor Maria, vuole dire cos'è successo, niente, man è preso, man è caricato un telamacchina, e man è violentato ininterrottamente per tre giorni e tre notti, ma come tre giorni e tre notti, suor Maria era ieri pomeriggio, e ha detto, si, ma ci devo tornare domani e dopo domani, ciao ragazzi!